il principe william è stato costretto a superare le sue difficoltà nell'affrontare la pressione di diventare re secondo un esperto reale il fotografo reale arthur edwards ha elogiato il duca di cambridge il principe william per il suo impegno nel suo ruolo di futuro re parlando a royal rota di tv ha ribadito la dedizione del duca al ruolo tuttavia ha osservato una volta che credeva che william non volesse diventare re e non potesse far fronte al suo futuro ruolo nella famiglia reale il signor edwards ha dichiarato il principe william è diventato uno statista incredibile nonché il nostro futuro re di recente abbiamo fatto due viaggi seri uno in pakistan che era un paese che aveva i suoi problemi anche a israele che era un campo minato ma ha attraversato quel campo minato con grande cura mi ha davvero colpito ed è stato allora che ho capito che william ha accettato questo lavoro e il suo ruolo il signor edwards ha osservato che per un certo periodo ha creduto che il duca di cambridge non volesse essere re e non potesse gestirlo ha continuato c'è stato un tempo in cui sentivo che il principe william non voleva farlo quei primi giorni ricordo che mi diceva niente più foto arthur non ce la faceva da allora è diventato un colosso il fotografo reale ha anche riflettuto sulla famiglia che il duca è in grado di utilizzare per il supporto ha notato che anche keith ha interpretato bene il suo ruolo ha detto a questa famiglia favolosa è una moglie meravigliosa che sembra avere tutto a posto lei non è mai messa in fase da nessuna delle critiche qualunque cosa dicano agisce semplicemente con grande dignità e fascino sono una grande squadra e anche una gioia lavorare con loro questo è il futuro e il futuro è davvero fantastico il modo in cui crescono i loro figli è semplicemente meraviglioso